I cinesi! Ho preso queste voci! Da un cd musicale di Lamu, sì, quella figa spaziale con i cappelli blu degli anni 80 che lanciava le fiamme! E ho deciso di usarle per fare gli scherzi telefonici! Ah, è diabolica! Iniziamo quindi subito chiamando un ristorante cinese! Ma i giapponesi! C'è un po' di bambino! C'è un po' di bambino! C'è un po' di bambino! Come? C'è un po' di bambino! Manco per il cazzo! Non sanno neanche la loro lingua! Ah, allora chiamo il vecchio pensionato! Le ore di lernia! C'è un po' di bambino! Bleh! Nooo! Nangja Lamu, sono cacco'ha! Bazooka hoooonanca caccaete! Senso goccodemo yaro! Nooo! Nani, o bacana coto! Bleh! C'è un po' di bambino! O di bambino! Ziaun! 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 E dialogo leone! Ora capisci perché ti hanno mandato a fa'nculo della radio! Benissimo! E allora adesso chiamiamo Napoli! Aia! Sì? Sì 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 phase sì 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 Good ma anche i napoletani lo capiscono e allora ragazzi io vado da lui sì l'unico è il solo ma lascialo stare pronto fantastico il cappellaio magico non smettisce mai ma aspettate un attimo cosa vedo laggiù vedo un camion tutto nero con un testo e una croce e lui è bestemmium e allora chiudiamo questo scherzo telefonico andando da lui sì il grande solo è l'unico l'incredibile bestemmium ma chi è un pazzo drogato che guida un camion non si chiunque quando si e la non si chiunque wieveios non si chato non si chato non si chato ma l'asci ma l'asci se chato non si chato no, italiano no, 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 no no, se un bastardo infamico o mai a te staccu che da un giù che da un giù che da un giù questo te è che da un giù non devi tolare che da un giù che è che da un giù il giù che è che è Sì, non lo so, non lo so, non lo so. Aspetta, aspetta Allora, ragioniamo Io vorrei parlare con quest'uomo e capire chi è Cioè dobbiamo chiamarlo con calma Oggi lo chiamiamo con calma Oggi gli facciamo un'intervista, fingiamo di essere un so No, con calma, stai calmo Cioè, ti ammazza a mani nude Ha aperto un mondo Secondo me è un enorme gorilla che bestemmia King Khan